Eh, tu poco fa hai detto con tanta spavalderia, è a femmina mia, e poi mi viene a dire che sta digiuna. Professor, questa ragazza che avete visitato a verità, è niente. So quatt'osso messa insieme che una persona sbadata può fare così con le mani e dice questa roba inutile, non serve. E senza pensarci sopra le butta in un angolo, in mezzo ai rifiuti, e non ci pensa più. Vesta alla moda? Non signore. Porta le calze di seta? Non le porta. Va dal parrucchiere? Non ci va. Eppure, quelle quattro ossa messe insieme, proprio come sono state messe, in quella stessa posizione. Con quelli due occhi, con quella pelle, e che lo stesso colore, sta cosa è niente. A verità. È a femmina mia. È a me. Guardate a me, guardate. Eccano, ehi. Tengo i scarpe brutte. Ehi. E guardate il vestito, guardate. Volete vedere la camicia? Ma no, no, non è il caso. Ecco, guardate la camicia, guardate. Ecco. Eppure, eh. Che rappresenta? Quattro osse schifose che chiunque farebbe col piede così per farle finire nell'immondizio. Ma per lei queste quattro osse schifose sapete che rappresentano? L'homme suo. Quanto è bello. Quattro osseguite? Quattro osseguite.